Sotto canna di qualità, protagonista Marmirolo, l'appuntamento dato il via alla preparazione tecnica del Karate Mantova. Vediamo. Con lo stage di domenica ha preso ufficialmente il via alla preparazione tecnica d'alta scuola del Karate Mantova. Teatro dell'incontro, organizzato anche grazie al lavoro dell'assessorato allo sport del comune di Marmirolo, è stato il palasport comunale. Lo stage ha visto la partecipazione, fra gli altri, del maestro Mario Schiavone, cintura nera Settimo Dan e direttore tecnico dell'Uniax, l'Unione Italiana Amici del Karate Shotokan. Fondamentali e kata sono stati al centro del programma tecnico svolto. La prima parte è stata dedicata alle cinture dalla gialla alla verde, la seconda invece è stata riservata alle cinture di livello avanzato, con l'insegnamento e l'applicazione dei tre kata tecchi, forme molto particolari che si sviluppano soltanto su una linea in una posizione chiamata Kiba Daci, la posizione del cavaliere di ferro. Per l'occasione il grande maestro Schiavone è stato tesserato come atleta e tecnico della società Karate Mantova.